riflettendo a voce alta un argomento a cui tengo in riferimento a tutto ciò che ogni giorno affrontiamo e di quante prove siamo esposti a dover superare in un modo e in un altro e se le situazioni si presentano nella nostra vita ripetutamente dove non ci diamo un significato perché non lo riconosciamo perché non capiamo perché quelle cose capitano sempre perché quelle situazioni arrivano a noi che cos'è che dobbiamo imparare questa è la domanda ogni volta che cerchiamo di darci una spiegazione sulle cose dovremmo fermarci a riflettere quando troviamo il tempo per noi stessi e capire cosa davvero vogliamo dal profondo in quel momento cominciamo a far fuoriuscire da dentro di noi tantissime risposte queste le risposte sono dei messaggi che ci stanno indirizzando la via da seguire la strada giusta ogni volta che ci alziamo la mattina e pensiamo a come dobbiamo affrontare quel lavoro che ci aspetta quella lezione da imparare quel anche nuovo sport che abbiamo deciso di iniziare tutte le volte che ci approcciamo a qualcosa che da un lato ci aiuta a stare bene perché sentiamo che vogliamo davvero farlo ma dall'altro lato c'è qualcosa che non ci convince qualcosa che ci stessa che ci porta a vivere male allora qual è il principio di tutto l'evitare di vivere questa forma di stress che poi porta altri tipi di problemi cerchiamo di creare questa forma di prevenzione come facciamo ad eliminare certi meccanismi tossici o che comunque ci portano dallo stress nella nostra vita cerchiamo di riconoscerle innanzitutto e dopo che le abbiamo riconosciuti cominciamo ad entrare in quel lavoro individuale con noi stessi in cui vi ci diciamo io voglio davvero fare questo lavoro voglio davvero iniziare questo percorso voglio davvero intraprendere questa carriera è quello che voglio davvero se hai un sogno se hai un progetto nella tua vita se c'è qualcosa che veramente tanto tieni comincia a fare dei passi che ti portano giorno per giorno a quel percorso se è quello che stai facendo il momento il lavoro che stai facendo non ti sta dando la gioia e non ti avvicina minimamente a quello che è il tuo sogno allora non avere paura di cambiare non avere paura di mollare qualcosa perché potrebbe non rivelarsi poi il sogno a cui aspiravi solo per paura non farlo liberati da questa paura porta avanti il tuo sogno se davvero ci credi non farti fermare da tante situazioni che ti stanno soltanto distogliendo distogliendo da quello che è il tuo obiettivo da quello che è il tuo sogno porta avanti il tuo sogno lo devi lo devi innanzitutto a te stessa o a te stesso io spero che sarei tu la prossima volta a raccontarmi una storia che magari potrebbe essere utile a qualcun altro ma sono quelle che hanno una profonda verità è sicuro che non è sicuro che non la faccio la prima volta a raccontare il tuo sogno